È una situazione gravissima perché ad oggi non abbiamo giustificazione di come sono stati impiegati i danari che sono stati assegnati a queste associazioni no profit. Il tutto era partito, e già lo dicemmo, in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, con la delibera di spesa relativa ai lavori di straordinaria manutenzione e di riqualificazione del verde di piazzale d'annunzio. In questa occasione le dichiarazioni rilasciate nell'ordine dal sindaco, dall'assessore ai lavori pubblici e dal dirigente comunale lasciavano a dir poco senza parole perché il sindaco dichiarava di non conoscere l'associazione né il titolare. L'assessore ai lavori pubblici ha dichiarato di non sapere nulla, il dirigente comunale ha dichiarato di non sapere come sono stati impiegati questi 53 mila euro e di non avere alcuna rendicontazione. Questo si è poi aggravato ulteriormente con l'avvenuta conoscenza di altre due delibere, una del 2022 e una del 2023, relativa alla realizzazione di un jukebox in via San Francesco per oltre 60 mila euro. E di questo, anche di questo, non vi è traccia. Quindi, non avendo giustificazioni di questi danari pubblici di come siano stati impiegati, tutto il gruppo consigliare di opposizione ha deciso di presentare una mozione per l'istituzione di questa commissione d'inchiesta. Commissione d'inchiesta, tesa chiaramente ad evidenziare e a fare indagini e ricerche per fare chiarezza su queste criticità e su queste grosse e gravi incongruenze. Ci auguriamo che anche i consiglieri di maggioranza, proprio perché si tratta di una questione di importante interesse pubblico, aderiscono all'istituzione di questa commissione per fare chiarezza. Però sul punto della commissione d'inchiesta, come diceva lei, c'è bisogno anche della maggioranza perché va approvato in Consiglio Comunale. Nel qual caso non venisse approvata? Nel qual caso non venisse approvata, noi comunque andremo fino in fondo alla vicenda e in ogni caso procederemo, anche laddove fosse necessario, a dire le opportune sedi giudiziarie.